I bar, luoghi di incontro tra culture e il caffè, bevanda di socialità per eccellenza, sono ancora una volta i protagonisti del calendario di Lavazza, firmato nell'edizione 2023 dalla fotografa e regista Alex Prager e svelato alla triennale di Milano sotto lo slogan Yes, we are open. Con il messaggio e il titolo del calendario di quest'anno, Yes, we are open, vogliamo veicolare dei messaggi di inclusione, di apertura, ma abbiamo scelto infatti come setting ideale il mondo del bar, come azienda Lavazza ovviamente apparteniamo a questo mondo e per noi è anche un senso metaforico di un mondo ideale in cui tutti sono invitati a partecipare, in cui ognuno può esprimere la propria diversità e in cui ognuno appunto può vivere serenamente e liberamente questa esperienza. Abbiamo bisogno anche di una sensibilità speciale, per questo la nostra scelta è caduta su Alex Prager, quello che ci piaceva di più del suo lavoro è che non dà giudizi, tiene sospese le risposte e suggerisce però delle domande, quindi abbiamo scelto lei per questo, oltre che evidentemente per la sua cifra artistica molto particolare, molto originale, molto contemporanea ma allo stesso tempo anche fuori dalle mode e dai trend. Per celebrare i dieci anni di edizioni dedicate alla sostenibilità, Lavazza presenta al pubblico anche un libro a metà tra diario di viaggio e documentazione del dietro le quinte delle fotografie d'autore. Un libro che racconta il viaggio è iniziato appunto con gli scatti di Steve McCary, la scoperta e così al racconto delle comunità legate al mondo del caffè, ma anche agli agricoltori, agli elevatori, tutte persone che giornalmente lavorano nelle sfide del quotidiano, i cambiamenti climatici, ma anche i cambiamenti sociali, ambientali. E questi dieci anni sono raccolti in questo libro in cui ci sono contributi e interviste, in cui il professor Yunus, che ha vinto il Nobel per la pace nel 2006, ha una prefazione importante in cui racconta che questo libro non è solo un libro da sfogliare, ma una guida da interpretare. Se dieci anni fa, in qualche maniera, il timone teorico di tutti i calendari di Lavazza è stato la bellezza, negli ultimi dieci anni non ci è bastato, non è bastato a Lavazza, non è bastato a nessuno forse, e forse è per questo che cambia così tanto il paradigma. E anche fare un libro oggi, ha senso fare un libro? È stata la prima domanda che mi sono posto da progettista. Siccome noi nasciamo un animale nomadico sulla superficie del pianeta, ho trasformato tutto in un diario di viaggio. Proprio un po' nella tradizione novecentesca, se vuoi, dei grandi viaggiatori, un po' la Bruce Chatwin. Quindi questo è un diario di viaggio dove ti appunti tutto, appiccichi la foto, scrivi a mano, metti un pezzo di scotch. E questa roba qui è molto partecipata, è molto... Se a me va anche completato. Cioè io credo che chi prenderà questo libro in mano debba in qualche maniera completarlo con sue considerazioni, scarabocchiandolo se vuoi, perché sarà perfetto. Grazie a tutti.